Ti ho portato una cosa. È per imparare? Sì. Fa... faccia. 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 La pronuncia è F-A-Doppia C-Dolce-A. Faccia. Faccia. Ma qua c'è scritta anche una E. Sì, infatti, ma la E serve per la C-Dolce. C'è una C-Dolce anche qua, vedi? Roccia. 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 O goccia. Roccia. Roccia. La E serve per la C-Dolce. Se dopo ci fosse là, dovresti dire K. Free State of Jones.